Condanna a 4 anni con 5 anni di interdizione dai pubblici uffici per Yuri Comba, 37 anni, residente a Verbania, difeso dall'avvocato Mirella Cristina, a processo per tentata rapina aggravata. Comba, l'11 aprile del 2017, alle 10 del mattino, insieme a un altro uomo, Cristian Procacciante, la cui posizione è stata stralciata, si avvicinò a un'anziana che si era seduta a riposare su un muretto in Viero di Atoce, la stretta strada adiacente al tribunale, e tentò di strapparle la catenina. I due uomini strattonarono per i capelli l'anziana, che cadde a terra rompendosi il femore, poi fuggirono. La perizia psichiatrica ha confermato la capacità di intendere volere dell'imputato. L'avvocato difensore ha sottolineato come Comba fosse depresso e che quella mattina avesse bevuto prima di incontrare Procacciante. Bisogna verificare come siano andati i fatti, ha rilevato Cristina, e quale sia stato il vero ruolo di Comba rispetto a Procacciante. La PM, Sveva Deleguoro, ha chiesto la condanna a quattro anni, confermata dal collegio presieduto dal giudice Donatella Banci Bonamici. Comba si trova in carcere su ordinanza di custodia cautelare dal maggio del 2017.